Un'altra storia di successo, questa storia arriva qui da Lazio, quindi giochiamo in casa. Allora è arrivato Stefano, ragazzi facciamo... Grandi! Rimanete lì pronti, pronti! Ma ne approfittiamo perché il prof qui è ovunque alla Makefair giustamente. Sono ovunque, sono qua. Università Ca' Foscari di Venezia, futuro artigiano, ci accompagna da tempo nei nostri viaggi. Stefano se vuoi ci accomodiamo, Stefano Micelli. Innanzitutto ti chiedo, l'artigiano del futuro, il futuro artigiano di cui tu scrivi e dici da tanto, a che punto è in questa particolare fase? Grazie Gianpaolo, grazie a CNA, è sempre un grandissimo piacere per me essere qua. Faccio solo un inciso di due secondi. Oggi di solito noi presentiamo delle slide in queste occasioni, presentiamo delle immagini. Oggi volevo commentare, rispondere alle domande di Gianpaolo, invitandovi alla visita. C'è uno spazio, c'è uno spazio della Makefair dedicato proprio allo stato dell'arte, del nuovo artigiano innovativo, si chiama così il padiglione, artigiano innovativo. C'è uno spazio dedicato anche alle scuole, attaccato proprio. È lì che oggi si può guardare, vedere da vicino a che punto siamo con le sperimentazioni, devo dire alcune davvero sorprendenti, di nuove tecnologie, di nuovi business model, di nuovi prodotti, di nuovi materiali, di ibridazione a fa vecchio e nuovo. Quindi, dicevo, alla tua domanda, Gianpaolo, credo che oggi si possa rispondere facendo un invito alla visita, 100 metri da qua, e magari adesso segnaliamo alcuni dei progetti che probabilmente sono più interessanti e soprattutto la chiave di lettura, che è l'unica cosa, in una Makefair che io considero straordinaria, è l'unica cosa un po' difficile da tirare fuori in questi spazi, perché tutte queste insegne, un po' tutti uguali, rendono un po' difficile orientarsi in una visita che è bellissima, esperienziale, però ogni tanto un po' di guida magari aiuta. Senti, proprio parto da quest'ultima cosa che hai detto, l'aspetto, il format della Makefair è proprio anche questa idea della democratizzazione, del saper fare. Qual è l'elemento distintivo su cui consigli ai giovani artigiani, di CNA in questo caso, di puntare, per differenziarsi, per eccellere? Ho visto, ho curato questi 40 progetti che sono arrivati, ne ho visti molti, e qualche indicazione credo che oggi sia possibile fornirla. Oggi noi abbiamo queste nuove tecnologie straordinarie, abbiamo ovviamente il web, però oggi soprattutto la sfida di cui si sta parlando qui oggi non è tanto quella del digitale classico, della rete, delle forme della comunicazione, quanto piuttosto dell'introduzione di questi strumenti all'interno dei processi manifatturieri classici. Ecco, una prima chiave di lettura la chiamerei ibridazione ed è esemplificata da un progetto che voi potete guardare, sperimentare, toccare con mano, entrando proprio nel padiglione dedicato agli artigiani innovativi. C'è una tipografia, troverete una vecchia macchina Heidelberg, una di quelle macchine della Linotipia, che consentono di produrre letterpress. I biglietti da visita che voi toccate in rilievo, sentite sul polpastrello, che c'è stata una macchina a imprimere una forma e un colore. Ecco, in quel caso lì è interessante vedere come l'ibridazione è la mescola fra una tecnologia, la Linotipia molto tradizionale, e la sostituzione dei caratteri mobili in piombo, che hanno fatto il loro tempo, che costano molto, dal punto di vista produttivo, con nuovi strumenti, nuovi cliché, si chiamano in tipografia, che vengono prodotti attraverso macchine, fresatrici a controllo numerico, nel caso specifico le Roland, e attraverso la stampa 3D. Ecco, quell'esempio è un esempio interessante. Prima c'era il caso dell'imbianchino, in quel caso lì si imbianca, più o meno come si imbiancava una volta, ma si comunica via web. Ecco, qui la tecnologia entra nel processo, era un po' anche l'evocazione che veniva fatta nel finale. Di queste ibridazioni ce ne sono molte, che voi potrete osservare, e su questo credo che ci sia da sbizzarrirsi. Se ne segnalo però altre due di possibilità, di combinazioni. Una è legata davvero a un'idea di prodotto nuovo e radicalmente personalizzabile. C'è un progetto che si chiama Bijoué, sono degli occhiali, degli occhiali che voi comprate, una forma standard, ai quali potete applicare degli accessori. Provatelo, perché il click è facilissimo. Sono occhiali da donna. Gli accessori sono tutti diversi, li troverete, hanno tanti nomi. Voi comprate sia l'occhiale e comprate stampato anche l'accessorio che dà la forma, dal gusto, dal tocco al prodotto. Ecco, su questa idea di un prodotto facilmente personalizzabile, flessibile, giocoso, che si presta a milioni di possibilità, perché poi io posso immaginare altre forme di occhiale, posso immaginare altre forme di accessorio, credo che su questo davvero si possa giocare molto. È un prodotto in cui la valenza di flessibilità e di personalizzazione esplode. Esplode a forme. Prima si diceva all'inizio che abbiamo rischiato la McDonaldizzazione del mondo. Ecco, gli artigiani digitali hanno il compito di evitare questo orrendo destino. Lo trovate anche questo al padiglione artigiano innovativo. Quindi, secondo te, la personalizzazione del prodotto resta l'elemento differenziante per gli artigiani. Due chiavi di lettura. Una è la personalizzazione e l'altro è la varietà. Qui l'altro elemento, se volete, qui parlo al passo alle chitarre, che sono sempre nel padiglione. Ecco, questa idea che voi potete immaginare, sempre con queste nuove tecnologie, è una varietà che noi pensavamo perduta, impensabile. Sicuramente perdiamo in termini di economia di scala, perché produrre tante cose diverse c'è poco da fare. È più facile produrre in serie delle cose tutte uguali. Queste tecnologie però oggi, queste frese, queste stampanti, consentono di generare varietà a costi contenuti. Produco tanti modelli diversi, in serie piccole. ovviamente devo far capire al mio cliente che dietro a questa varietà c'è un valore. Devo riuscire in qualche modo a spiegargli che se faccio tante cose diverse, queste cose diverse avranno ciascuno un loro uso, una loro funzione. E da questo punto di vista devo dire che l'esempio delle chitarre è molto divertente perché lui ve le mette in mano, vi spiega, vi racconta un po', vi racconta un po' che cosa si può fare con questi diversi strumenti, quali sono le loro potenzialità. Ci sarà pure un concerto, ve lo dico. La visita, insomma, il consiglio è di fare questa visita guidata. Tre anni fa, sempre al CNA Next, abbiamo ancora qualche minuto e ti chiedo questo, CNA Next, di qualche anno fa tu hai provocatoriamente detto chi conosce Etsy? Le mani alzate erano poche, invece in realtà forse oggi io non vedo tutte le mani alzate per via dei fari, però possiamo provare anche a rifarlo. Quanti conoscono questo marketplace Etsy? Vedi che è aumentato. Credo più mani alzate rispetto all'esperienza di Bologna, al Next di Bologna. Come coniugare, diciamo, il dettaglio, il particolare, l'unicità dell'artigiano italiano con queste grandi piattaforme e queste grandi piattaforme ci colonizzeranno? Saremo chiusi e blindati e sottoposti al ricatto dei grandi? Dove vendere online? Questo mi sembra una domanda pertinente, proprio mi sembra una domanda molto giusta. Non ci siamo posti questa domanda alcuni anni fa sul turismo e oggi mi pare che molti dei nostri operatori turistici rimpiangano di non essersi posti questo interrogativo. Vi ricordo che Booking.com o Expedia hanno rappresentato per molti albergatori, per esempio della città da dove vengo, una grandissima opportunità, preso un po', forse, sotto gamba. Margini importanti, tempi brevi, oggi però, se non passi da loro, non ci sei più. Nel caso di Etsy, voglio dirlo, c'è una piattaforma anche culturale, oltre che di business. Il caso Etsy è anche un progetto che ha a che fare con la handmade, con dei valori, non solo con un orientamento al business. C'è sicuramente, dal mio punto di vista, la necessità di immaginare piattaforme anche italiane che completino questi periodi. Come non farsi, come dire, divorare da queste iniziative? Io un po' questo l'ho visto, adesso abbiamo lanciato anche una ricerca come università, proprio sulla popolazione Etsy italiana dentro Etsy globale. Ecco, credo che noi dobbiamo caratterizzare molto la nostra presenza e il nostro, chiamiamolo di dire, made in Italy in questo contesto. Come? Sempre con la mescola di cui prima, ibridazione, varietà e personalizzazione. E sono, diciamo, le tre parole sulle quali credo che oggi bisogna riflettere. Molti progetti Etsy italiani con poco possono diventare progetti davvero interessantissimi da raccontare in maniera anche brillante e spesso sorprendente. Ti saluto chiedendoti un là per il prossimo segmento storytelling legato alle reti di impresa. Informali, in realtà, perché sono nuovi network. Quanto credi che il futuro artigiano passi attraverso queste ibridazioni di gruppi trasversali? Anche qui consiglio di nuovo la visita perché molti dei progetti che voi vedrete nel padiglione sono progetti che sono nati non tanto da strumenti formali di collaborazione, quanto invece dal fatto che le persone hanno iniziato a riconoscersi, a parlarsi, a scoprirsi, a valorizzarsi. Penso, per esempio, ad alcune iniziative come appunto questa che vi ho raccontato, la tipografia. A un certo momento serviva una fresa e immediatamente abbiamo fatto una telefonata, abbiamo trovato una macchina, servivano dei nuovi cliché con un design innovativo. Abbiamo chiamato gli amici di Tecnificio, quelli che peraltro hanno fatto una bellissima mostra che si chiama Mondopasta, se volete vederlo, con le stampanti 3D per la pasta alimentare e immediatamente si è creata collaborazione anche in quel fronte. Credo che le associazioni di categoria come CNA devono moltissimo lavorare nella direzione proprio di socializzare le persone, di metterle vicino una alle altre e di sfruttare anche questi contesti, questi contesti come la Maker Faire, di fare conoscere le persone, farle lavorare in maniera molto informale insieme, perché io ho visto proprio in questi appuntamenti nascere spunti, idee, proposte di lavoro che poi sono andate avanti e si sono consolidate nel tempo. Lo strumento giuridico serve, sicuramente sì, figuratevi, ma lo strumento giuridico segue, segue la realtà, segue la vita, segue l'entusiasmo, la passione della gente. non è che con una regola io metto in moto un'energia, con la regola gli do una forma, ma se l'energia non c'è mi dispiace. Grazie Stefano Micelli. Grazie a voi, grazie a voi. E buona visita soprattutto, io sono lì, se volete, faccio da Cicerone. grazie a voi. Grazie a voi.